Grazie 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 ARRI Quando avevano chiamato i miei fratelli con la squadra... Come questa è un amore? Come questa è una amore? Sono bella! L'idea da chi era. Le spalle state. Quale sei distrutto? Quale è la formazione? Quando è la formazione? Non arriva, non arriva, non arriva. Vai dire le formazioni, l'idea che ci sono. Quanti giorni? Quale è? Quale è? Qua è? 5-2-5 5-2-5 si io ho capito cosa devo fare è ceduto? non sono buono non sono buono ma ceduto c'è ceduto ma ceduto ceduto non rimane perché non esiste ma ceduto si è felice è ceduto